Salve a tutti ragazzi, io sono Marucco e benvenuti in un nuovo video news e info su The Sims 4. Prima di lasciare il video ragazzi vi ricordo di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e farmi sapere sotto nei commenti che ne pensate. Detto questo vi lascio al video e buona visione. E ragazzi questo video news e info velocissimo perché un po' era nell'aria, dobbiamo fare le corse. Infatti è di pochissimi minuti fa il tweet che annuncia il reveal del nono game pack di The Sims 4. Cos'è questo nono game pack? Beh non lo sappiamo fino a domani, ma domani durante il Gamescom, durante l'open night del Gamescom, sapremo finalmente di che si tratta. Sapevate che c'era già una live in programma sul canale, quindi vi aspetto domani e ancora di più adesso, vi aspetto numerosi per scoprire insieme di cosa si tratta. Ragazzi siateci perché ci divertiremo un mondo in live. Quello che è emerso da questo teaser è un bel simmino, bello bello famoso, che effettivamente si è prestato con le sue movenze. Addirittura ve lo starò facendo vedere nel momento in cui calcio alla scritta ragazzi. Quindi potrebbe essere legata di sport, scherzi a parte, mi è piaciuto molto quest'idea. È stato un bellissimo modo, secondo me, di far vedere la loro presenza al Gamescom di domani. Quindi ragazzi sono molto molto felice, abbiamo visto ieri durante la live news e info, molto molto velocissima, che è emerso qualcosa legato a delle epoche, qualcosa di diverso, di diverse epoche. E siamo partiti dal fatto che abbiamo votato in passato per un DLC, papabile DLC, che riguardasse i viaggi nel tempo, quindi diverse epoche. Siamo partiti da Star Wars, siamo partiti dal futurismo, per arrivare a oggi a pensare che sì il futurismo sarà presente, ma non sarà solo quello. O comunque forse non ci sarà solo quello nel gamepack. Non sappiamo cosa si sono inventati, hanno definito questo gamepack divertente e ci hanno detto che avrebbe avuto al suo interno una nuova dinamica, un modo nuovo di giocare a The Sims 4. E ragazzi, con il tempo, i viaggi nel tempo, è come se c'è una nuova dinamica su The Sims 4, qualcosa che a oggi non abbiamo avuto. E neanche nello stesso brand, nella stessa storia di The Sims, perché effettivamente con Into The Future siamo andati nel futuro, ma mai nel passato. Quindi un nuovo modo. Ragazzi, potremmo essere davanti a un DLC? Alzo le mani, non so che cos'è, non parto prevenuto e non parto neanche allegro, perché non so di cosa si tratta. Ma vi dico che potremmo essere davanti a un DLC sicuramente particolare. Sicuramente ancora di più, ne abbiamo parlato anche ieri in live, un DLC che va a distaccarsi, secondo me, dal concetto di simulatore di vita quotidiana. Quindi è sicuramente un DLC che dividerà, perché molti di voi potreste dire, io preferisco avere dei DLC un pochino più incentrati nella vita dei sim normali. Quindi niente di sovrannaturale, niente dinamiche un po' strambe. Quindi quello, ragazzi, è il vostro gusto, anzi lo rispetto tantissimo e anche secondo me The Sims deve pur sempre essere un simulatore di vita. Personalmente però a me non dispiacciono certe dinamiche, non mi dispiace il sovrannaturale, non mi dispiace certe dinamiche un po' che vanno, non dico a cozzare, ma qualcosa di particolare nel gioco. Io personalmente, ma ripeto, un parere personale, le apprezzo. Quindi se dovessi trovarmi davanti a un game pack strambo domani, non mi dispiacerebbe sempre, ammesso che sia sviluppato in un certo modo. E quindi sono curioso di vedere cosa si sono inventati, perché ripeto, a pochissime ore dal reveal, effettivamente noi non sappiamo cosa ci possiamo aspettare. Abbiamo degli indizi, abbiamo delle foto, abbiamo dei nomi, abbiamo delle casate di famiglie medievali, ma allo stesso tempo Star Wars. Quindi siamo in un frullatore di roba che ragazzi sta per essere scoperchiato, mancano poche ore, io sono contentissimo, non vedo l'ora, davvero che sia domani. E spero ci siate in tanti, mi raccomando, siateci. Perché ragazzi domani ci si diverte, è come se ci si diverte. Quindi detto ciò ragazzi, questo video è davvero velocissimo, ci tenevo a dirvi che domani esce il nono game pack di The Sims 4. Ci tenevo a dirvi che siete invitati se vi va a supportare quello che faccio e a farmi tanta compagnia e tante risate, perché lo aspetto domani. Quindi ragazzi domani capiremo effettivamente di che si tratta. Detto ciò però io vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto del video. Vi ricordo di lasciare un mi piace se vi è piaciuto. Vi ricordo anche che qua se non trovate il canale, se volete iscrivervi, non siete ancora iscritti, è il video consigliato. Noi ci vediamo domani con i prossimi contenuti, stasera in live sul sito Viola, lo aspetto alle 21, ma domani con i nuovi contenuti. E ragazzi è arrivato il momento, fine estate, annunci, nuovo game pack e chissà, magari non è l'unica cosa che riveleranno domani. Non lo possiamo sapere, quindi l'unico modo per scoprirlo è esserci domani. Quindi ragazzi lo aspetto, ciao a tutti.